Bella raga, eccoci su Battlefield 3 per PC online, dopo tanto tempo che non giocavo, ho il ping altissimo, ah no, adesso è sceso, era il 200, vediamo cosa riusciamo a fare, non ho più la mano con il jam. Quello è quasi morto, facciamo una tornata a padre. Il pilota riusciva a prendere, anche il pilota, raga ci ho perso la mano, comunque i server sono ancora pieni di sto gioco, secondo me è troppo bene. La mira lascio a desiderare ancora perché fermi un attimo a prendere la mano, vediamo di fare un po' di stragi con il jam, ho visto qualcuno, dov'è? Ok, per adesso non mi sono ancora schiantato quindi la mano più o meno ce l'ho ancora, ho mancato a questo. Goal, via, dai 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 che scoppia 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 scoppia, bella. Rasetto, forse prima giocavo qua la sensibilità un po' più alta del mouse però adesso ho paura che mi vada a schiantare se la uso, non c'ho la mano. Vediamo, vediamo a livello di meno. Preso, bella. ECM, via, ECM, via. Goal. Ah, qua c'è qualcuna. Facchiamogli sto segnalo. Bene, vediamo di fare una bella partita. Un po' di strage. Ah, l'avessi beccato una volta. Che da fare? Chopper, il chopper. Il jet dietro, occhio. Una forte questa, occhio. Piana. Oh, c'era anche la contraire, l'erica. Facchia, via, 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 via. Ha messo la... No! Uuuuh. Non so se era forte quella quel jet, però mi ha messo un po' di paura. Guarda che questa sta per esplodere. Ammazziamo. Bella. Mi è andata di culo due volte col carro. Vado a chiappare a questo. Ce la facciamo? Eh, l'abbiamo ancora disattivato. Non riesco più a fare le manovre. Via, 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 via. Siamo che ce la contraire. Via, via, via. Vanno i jet dietro, attenzione. Attenzione, attenzione, non incoschiamoci. Andiamo di contro. Andiamo di contro, andiamo di contro, ok. Se gli vai contro, praticamente, il missile che ti segue. Non sa più dove andare. Non ti becca. Avete visto che non era mai questo. No, non è morto. Non è morta. Non è morta. L'avrò lasciato il 2%. Non è morta. Non è morta. Non è morta. Prendiamo un po' il jet Eccolo Cacciamolo No, non ho capito come l'ho fatta morire Vabbè, ci rivediamo fra due secondi Ok raga, abbiamo ripreso il jet Comunque avete sentito i tre colpi diretti Quasi sicuro che quello lì che mi stava spando è un bel giga No, si sono bloccati lì Anche io mi sono bloccato adesso Devo scendere È salito troppo, cacchio Andato in stallo E dobbiamo riuscire a sbattare Passiamo la velocità del jet Passiamo, abbassiamo Brutto Ok, ci siamo sbattati Passiamo Facciamo queste due doppie doppie Quasi C'era quasi Dai 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 L'elicottero No, c'è la contraerea Attenzione Un soltato nemico con la sigara Intentato Però, almeno ho disattivato e ho spaccato l'elicottero Ah, era il jet Era il livellone center Era il centona Vabbè, non c'è problema Adesso aspettiamo un altro jet Oh No, non c'è ma piedi Vediamo se è forte Se è quello di prima Quel jet è il centone Penale Ok Ah Vediamo un boxer Forte questa Moltezza Bella che l'abbiamo spaccato pure da fuori Ottimo 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 Uuuu Doppia Ok Il piede lo difendiamo Adesso La mira con la mira Scegliamola Ma niente Passiamo al riot Passiamo il riot Aereo Bella 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 Ho visto uno col paracaduto Da Qui E' attenzione Verso La tirata da ICM anche lui Arriva Arriva Allora io voglio beccarne le tifiche L'ho localizzato dai commissioner però devo allontanarmi da panchella quella lì ecco lì ok, è andata bene, 15-3, con il jet il jet, attenzione, attenzione no, 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 no ancora dietro ce l'ho quando a me lui si è schiantato, o ce l'ho dietro o si è schiantato almeno a questa, proviamo la mira qua bella ok, spacchiamo quello lì 25 ticket guarda che c'ho il jet dentro è denunciato guarda che arriva visto, l'ho visto andando anche all'elicottero guarda è prima che finisce la partita, l'ultima kill ora è disattivato bella raga finita ok, se il video vi è piaciuto mettete un bel like anche se abbiamo perso sono entrato troppo nella partita raga non sono un dio e ci vediamo al prossimo video ciao raga